Salve, ben ritrovati a tutti, ci vediamo come di consuetudine per una breve panoramica con alcuni approfondimenti dei contenuti del numero 5 della rivista italiana della saldatura che è stata pubblicata alcuni giorni fa. Questo numero contiene articoli per certi aspetti particolari, talvolta un po' diversi se volete dal solito, dalla nostra linea editoriale classica per quanto riguarda ovviamente ciò che siamo abituati a proporvi. Intendo dire che abbiamo avuto la possibilità di avere contributi inediti, in particolare mi riferisco a una interessante storia di una nottissima azienda italiana, la fabbrica Riunite Ossigeno, la FRO, come talune meglio la conoscono, grazie appunto a un inedito di Fabio Targa, che ringrazio peraltro per l'occasione, che ci riporta indietro nel tempo alla nascita appunto di questa nottissima azienda. Un altro contributo che mi sento di definire per gli aspetti particolari e certamente inedito per i nostri lettori è il caso che abbiamo inserito nella nostra tradizionale rubrica dedicata alla ferroanalisi delle fratture fragili verificatisi 80 anni fa in Belgio sui ponti chiamati Firendel sul canale Albert. Si trattava di più ponti fabbricati con analoghe modalità progettuali ed esecutive che hanno visto appunto il verificarsi rotture fragili che in qualche maniera si sarebbero poi sommate ad altri casi di rotture fragili ancora più note. In questo articolo viene ripercorso in qualche maniera il liter che queste fratture hanno seguito, purtroppo in assenza di evidenze documentali particolari anche perché poi la distruzione avvenuta durante gli eventi bellici ha eliminato di fatto la disponibilità di testimonianze dirette. Ma credo che sarà comunque un contributo molto interessante per tutti. Due ulteriori articoli per quanto molto diversi tra di loro saranno invece disponibili e accomunati dal comune denominatore del comportamento a fatica di strutture saldate. In un caso si parla di comportamento a fatica di giunti saldati facenti parte dell'impalcato di ponti in l'astra ortotropa con particolari tipologie di calcio e struzzo utilizzati per la realizzazione del manto stradale, utilizzati quindi per la struttura dell'impalcato. Nel secondo caso si parla invece di attività sperimentali condotte per il miglioramento del comportamento a fatica nel campo navale con l'utilizzo di specifici consumabili e il prolungamento di cordoni di saldatura allo scopo di ottenere specifici stati locali di compressione. Non si tratta ovviamente di una soluzione nuova ma la maniera con cui viene messa in atto è sicuramente interessante. Concludo questa rapida carrellata con un cenno all'articolo dedicato alla metallurgia della saldabilità che approfondirà nel caso specifico l'influenza del tenore di titanio sul comportamento in zona termicamente alterata, la parte grano fine in particolare, di giunti saldati in acciaio di elevata resistenza grado S700MC. Per finire celebriamo in qualche maniera la ricorrenza del nostro settantesimo richiamando un articolo pubblicato nel 1950 che descrive se volete le operazioni di chirurgia navale compiute appunto presso un cantiere navale genovese sullo scafo di una nave Liberty che a seguito delle modificazioni apportate fu ribattezzata con ovvio significato mi vorrebbe da dire Super Liberty e con un nome di un tipico quartiere genovese che è il quartiere di Boccadasse. Ci auguriamo che questo numero incontri il vostro interesse, il vostro favore e ci diamo appuntamento con il successivo numero 6.